Le forti piogge di ieri hanno causato alcuni disagi e danni nell'Alto Garda. In particolare, una delle strutture con maggiore criticità è stato il Circolo Pensionati di Arco, che ha subito numerose infiltrazioni d'acqua e il conseguente allagamento di una parte del bar. La pioggia incessante ha anche allagato gli uffici del patronato CGL al piano superiore dell'edificio comunale, le cui pareti sono ormai rovinate dalle numerose infiltrazioni provenienti dal tetto. Non è la prima volta che accade una cosa simile. La ragione è che il tetto necessita di una manutenzione straordinaria. Il Circolo Pensionati ha fatto sapere di essere disponibile a una possibile compartecipazione nella spesa di riparazione del tetto, ma serve che anche il Comune e i sindacati siano d'accordo. Vediamo l'intervista del Sindaco Alessandro Betta. Dopo le numerose, le forti piogge di ieri, ci sono stati grossi problemi al Circolo Pensionati e alla sede del CGL, con numerose infiltrazioni d'acqua e allagamenti. Siccome l'edificio è comunale, voi come avete pensato di sistemare questa cosa? Beh, parto dal fatto che le precipitazioni che ci sono state nella giornata di ieri, comunque le precipitazioni ormai con cui ci troviamo ad affrontare, quindi è una situazione che è totalmente cambiata. Queste cosiddette bombe d'acqua, o chiamiamole anche mini bombe d'acqua, creano grosse criticità su edifici come quello dell'ex Omni, edificio dove comunque risiedono i pensionati, ma anche in edifici privati. Ci sono state problematiche nella giornata di sabato, con allagamenti, per capire, anche a Barfranca Bolognano, e quindi ci sono delle problematiche proprio legate al cambio degli eventi, eventi che sono molto intensi e brevi. Questo chiaramente porta a delle criticità. Nel caso specifico dell'edificio che mi avete citato, la prima cosa che ha funzionato è il servizio di reperibilità. Visto che come amministrazione nel 2010 abbiamo voluto inserire una reperibilità, almeno c'era un tecnico comunale che nella giornata ieri era reperibile per le prime cose di massimo. Questa mattina abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e la questione è legata a sostanzialmente due piante che sono un cipresso e un'altra essenza di cui adesso non ricordo il nome, che intasano tutte le volte le grondaie. Le grondaie sono anche di piccole dimensioni e praticamente con la forte intensità legata alle grondaie intasate da fogliame e materiale che deriva da piante ha fatto sì che sia accaduto questo. Chiaramente l'edificio è in demolizione, questo aggiunge ulteriori problemi di atticità. Era stato previsto in demolizione dall'amministrazione precedente, noi non siamo intenzionati a demolire l'edificio, la parte della vecchia villa davanti sì, ma sui edifici in demolizione non si possono impiegare risorse importanti. Allora questo è un po' sempre solito quando parlo di norme che ci si trova veramente avvinghiati su cose che non sono nemmeno di buon senso. Noi questa mattina abbiamo fatto tutta la pulizia delle grondaie, adesso procederemo con un taglio significativo nel mese a venire delle piante perché comunque non è pensabile che l'amministrazione ogni mese va a fare la manutenzione delle grondaie perché comunque le cose da fare sono davvero decine con il personale che è in riduzione. Pensiamo anche di andare a aumentare un po' le sezioni delle grondaie, queste sono le due questioni con cui valuteremo. Comunque nella prossima riunione di bilancio che abbiamo nel mese di luglio farò una valutazione approfondita.